Buongiorno a tutti, oggi siamo in collegamento con Aluisi Tosolini. Aluisi Tosolini sta concludendo proprio in questi giorni la sua attività lavorativa come preside di un importante liceo di Parma, il liceo Berto Lucci. Questo liceo è nato nel 2007-2008, addirittura è nato con lui, cioè quando lui è arrivato in questa scuola, questa scuola nasceva. Aluisi Tosolini di formazione è un filosofo, lui ha insegnato filosofia nei licei ma è stato anche dirigente scolastico di istituti comprensivi, ha una lunga carriera nel mondo della scuola ma poi ne parleremo anche nel corso della chiacchierata. Quello che ha un po' colpito tutti quanti di questa uscita dalla scuola attiva di Aluisi Tosolini è stato il fatto che in questi giorni nella sua scuola è stata organizzata anche una festa in suo onore, così ha raccontato la stampa, ma è stata una festa in realtà un po' particolare. Ce lo facciamo spiegare da lui perché è una cosa decisamente molto interessante. Allora si è detto che questa è stata un po' una festa a sorpresa, in realtà non è esattamente così. Come sono andate le cose? Non è una festa a sorpresa ma è la festa che annualmente il liceo Berto Lucci dedica come momento di saluto agli studenti di Quinta che concludono il loro percorso di studi per capire il tutto, bisogna fare un passo indietro. Noi riteniamo, abbiamo sempre ritenuto, io ho lavorato perché la scuola sia vissuta come una comunità. Pertanto all'inizio di ogni anno gli studenti che di prima che accedono al liceo Berto Lucci hanno sempre vissuto un momento, un rito, che è il rito dell'accoglienza che si chiama chiamati per nome. Ogni studente viene chiamato per nome Andrea Rossi, Matilde Rossi e vengono dal cortile a formare la classe sulle scale, ci si applaude, accoglie vicendevolmente e si dice questa sarà per i vostri prossimi, per i vostri cinque anni futuri, sarà la vostra casa. A conclusione di cinque anni si dice agli studenti che sono in Quinta prima degli esami di Stato si fa una sorta di, io non uso la parola congedo perché mi sa di militare e non funziona, però una sorta di saluto, di partenza a questi. Anche in questo caso vengono chiamati per nomi e vengono in tempo Covid, non è stato possibile farlo in questo modo, dalla scuola vengono chiamati fuori in cortile e durante questa festa, perché è una festa anche molto commovente, vengono fatti due piccolissimi regali, due segni, una pergamena con un testo di stramago che è un invito al viaggio dicendo quando si conclude un viaggio in realtà ne inizia un altro ed è quello che succede con la fine della Quinta Superiore e una agendina, un diario, ti regaliamo l'agenda Bertolucci che ti accompagni per i primi e tu scrivi se vuoi ce la rimandi in via, un segno. Durante questa festa abbiamo sempre salutato il personale che va in pensione, quest'anno in pensione vanno due, una docente, la professoressa Magliani che è la pianista e il dirigente scolastico, quindi abbiamo, come dire, salutato anche questi due. È chiaro che in questa occasione c'è stato un impegno da parte degli studenti e dei docenti nel saluto e anche per me, quindi è un invito al viaggio, un invito al viaggio, direbbe abbattiato, uscire, ma questa era la logica, uscire per entrare nella società e come ho sempre detto la scuola serve per capire il mondo ma anche per iniziare a trasformarlo, adesso che esci continuiamo ad impegnarci a farlo. Si è concluso il tutto con un momento, come dire, dionisiaco, è stata una cosa veramente molto commovente perché, questo sì, a sorpresa, gli studenti hanno costruito una frase con i cartelli di Nice che io amo molto, che occorre avere molto caos dentro di sé per generare una stella che danza e insieme abbiamo, tra virgolette, danzato, io in maniera pessima, come è noto, sulle note dei Modena City Ramblers, uno, dieci, cento, mille passi che è mettersi in cammino ma è appunto mettersi in cammino nella legalità, nella giustizia, nell'impegno per la trasformazione del mondo. Questo è stata una cosa molto molto commovente, è stata ripresa moltissimo dalla Repubblica Parma, dalla Gazzetta di Parma, poi anche da altri, insomma una cosa così inaspettata, la risonanza di quella che è stata in realtà una festa in famiglia all'interno della comunità chiamata Bertolucci. Risonanza di un fatto che dovrebbe forse essere più diffuso, cioè questo per esempio di accogliere gli studenti per nome, di salutarli quando se ne vanno, cioè sarebbe bello se questa pratica si diffondesse, cosa ne dici? Beh sì, se la scuola non è un parcheggio direi che dovrebbe essere così, ultimamente perfino i parcheggi salutano gli automobilisti quando entrano perché c'è il riconoscimento targa facciale eccetera col telepass, ecco io credo che se una scuola è una comunità questo dovrebbe, ovunque io sia andato, l'ho sempre fatto, ecco io faccio dirigente da 22 anni, ho sempre fatto questa cosa e mi sembra il minimo, il minimo sindacale. A proposito di comunità, ecco tu so che è una cosa alla quale tieni molto questa, cioè per te la scuola deve essere innanzitutto comunità, ecco ma da cosa si vede? Quali sono i segni che ci dicono che quella scuola è una comunità, cioè tu da che cosa lo capisci? Beh allora ovviamente parlare di scuola come comunità o semplificando scuola casa, ecco il nostro slogan, ci sono alcuni indicatori anche molto 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 semplici che io vi elenco così in maniera molto semplice, ci si può anche ridere sopra ovviamente, ma ad esempio primo la dislocazione della presidenza e degli uffici, se sei isolato in una torre d'avorio non sei una comunità, la presidenza da dove vi parlo io, se io apro la porta qui fuori sono le macchinette distributrici di caffè e merendine nell'unico spiazzo ampio diciamo così della scuola che per il resto è come una sardina perché siamo molto stretti come spazi, la porta è sempre aperta, non è mai stata chiusa, gli studenti bussano ed entrano facciamo colazione insieme la mattina quando siamo qua, gli uffici sono altrettanto distribuiti in mezzo alle aule, un altro indicatore quando suona la campanella non c'è la ressa per uscire, non c'è l'idea, scappiamo da qui, questo non è un carcere, si fermano gli studenti a mangiare, chiacchierare, fare i compiti, da sempre è stato possibile al liceo Bertolucci fermarsi al pomeriggio senza specifica vigilanza adulta, cioè un conto è se ti fermi per il corso di recupero di matematica o per il progetto stampante laser, un conto è se dici io sto qui perché voglio stare qui, punto, l'unica richiesta è sempre stata, è sempre stata negli ultimi cinque anni, prima neanche quella, dici che ti fermi perché se accade qualcosa con la sicurezza io devo sapere chi andare a cercare in giro per i corridoi, ecco, questo è una cosa molto molto bella perché ci sono i ragazzi che si fermano, mangiano, chiacchiano, scherzano, giocano a carte, no, qui fuori. Un altro indicatore molto semplice, anzi secondo alcuni ridicolo se non sciocco, è il seguente, come sono trattati i bagni, non i bagni dei docenti, i bagni degli studenti, quando io ho girato negli anni tantissimo per il ministero, per le scuole, ho sempre visitato per prima cosa i bagni degli studenti, se sono puliti, senza scritte, trattati bene, vuol dire che sono, come dire, casa propria, molto spesso invece nei bagni delle scuole ci si accorge che è come se fosse una tela bianca l'unico luogo in cui può essere espresso il protagonismo giovanile, il che, come dire, capite molto bene, è un po' disagio, come direbbero i ragazzi oggi. I muri di questa scuola sono muri a disposizione della espressione artistica degli studenti, il tutto in maniera organizzata e significativa. Un altro elemento è la presenza di gruppi di volontariato, gruppi di autoaiuto, il progetto compagni di studio in cui gli studenti si sono autonomamente organizzati per fare da peer tutor tra i grandi e i piccoli, fra quelli che sanno e quelli che non sanno, i progetti di service learning, l'impegno della scuola per la pace, insomma tutta una serie di, un insieme di esperienze che fanno crescere gli studenti non a parole ma spendendosi per il bene comune. Senti, Aloisi, ma a sentirti parlare e a sentirti descrivere la scuola verrebbe da dire, insomma fate quello che sta scritto in un qualunque buon manuale testo di pedagogia, non fate delle cose eccezionali. Certo, da lì vengo, Reginaldo, da lì io vengo, vengo da quel mondo lì, vengo dal mondo che celebra l'attivismo pedagogico di cui ricorrono più o meno cent'anni, che celebra dal buon vecchio di Ui, che oggi è utilizzato soprattutto con learning by doing nell'ambito digitale o nell'ambito degli apprendimenti, ma il learning by doing è a livello di democrazia, cioè impari a vivere in una società in maniera democratica perché democraticamente governi la tua scuola. L'idea che una scuola debba essere una comunità dove si condividono, si elaborano regole e si mettono in gioco in maniera attiva, in cui ho sempre detto, se non mi chiedi, ma qual è il tuo motto della scuola? La scuola è le ultime righe, oltre all'articolo 3 della Costituzione, le ultime righe di didactica magna, dico menius, della premessa. E dice che il compito della scuola è fare in modo che questi ragazzi siano attori e non spettatori. E lui diceva, non solo i ragazzi ma anche le ragazze, 1600 e qualcosa. Se pensate a quanto ci abbiamo per me, quello è un faro nella notte. Oggi noi viviamo in scuole che non prevedono ancora che ci siano gli studenti come attori, ma spesso sono spettatori, quando non, come dire, materia prima del mantenimento di un oggetto chiamato scuola che però serve a tutt'altro piuttosto che educare. Senti, da quanto capiamo per te il rapporto con gli studenti, quindi non soltanto con gli adulti, ma anche con gli studenti, è stato molto importante in questi anni. Nel tuo futuro c'è quindi l'idea di continuare ad occuparti di giovani, di ragazzi, magari in qualche altra forma? Al momento, come dice il buon vecchio Aquelet, ogni giorno ha la sua pena. Quindi al momento sto lavorando, oggi ho appena finito di fare scrutini, stiamo lavorando per i passaggi di consegne, per l'organizzazione, come qualunque dirigente scolastico, scrutini, esami di Stato, organico, corsi di recupero, preparazione all'avvio. Quindi cosa farò dal primo settembre? No, no, non è al momento. Certo, fra le molte cose che farò, un impegno di sicuro io continuerò, che è quello, perché c'era anche prima della scuola, e quello di lavorare sia come ricerca, ricerca filosofica, ricerca pedagogica, ma anche come lavoro concreto nel mondo delle scuole di pace, dell'impegno sociale, culturale, eccetera. In questi anni il Liceo Bertolucci è stato, e io come coordinatore nazionale delle scuole di pace, assieme a Flavio Lotti e agli enti locali per il coordinamento degli enti locali per la pace, i diritti umani, assieme a Mascia dell'Università, assieme di Padova, assieme a Fiorin della Lums, abbiamo lavorato tantissimo attorno a questo tema, continuiamo, continuerò di sicuro a lavorare nei meeting delle scuole di pace, nella marcia per Ruggia-Sisi, in questo che è un impegno dell'essere umano, che fino adesso ha fatto anche il preside, ma continua ad essere un essere umano. Non a caso proprio alle tue spalle c'è la bandiera della pace, la bandiera della marcia della pace, quindi diciamo che in questo momento storico in particolare forse è davvero indispensabile che ci siano tanti uomini che lavorino su questo terreno e che facciano sventolare la bandiera della pace. Eh sì, e anche concretamente lavorino per rendere quotidianamente, in maniera esperienziale, questa, che non è irenismo, ma questa capacità di assumere la capacità di gestire i conflitti in maniera non violenta, di mettere in campo cambiamenti significativi, sia a livello personale, nel prendersi cura, direbbe Luigina Mortari e prendersi cura, come la politica della cura è l'ultimo suo volume e noi abbiamo lavorato tantissimo in questi anni attorno alla necessità di fare in modo che l'azione educativa sia un'azione di cura. Attenzione, è anche un'azione di cura nei confronti della politica, è anche un'azione di cura nei confronti dell'ambiente, è un'azione di cura nei confronti della società, non solo del vogliamoci bene fra simili in senso ristretto. Bene, noi ti ringraziamo di questa bella chiacchierata e ovviamente ti auguriamo di concludere tranquillamente, serenamente questo anno scolastico e soprattutto ti auguriamo ogni bene per la tua vita a partire dal primo di settembre, quando non avrai più impegni scolastici, ma ci auguriamo tutti che tu continui ad essere impegnato sui temi e sui problemi di cui ti sei sempre occupato. Ultimamente sei stato responsabile della rete, delle scuole per la pace, ma tu ti sei occupato anche molto di temi dell'educazione interculturale, della integrazione degli alunni non italiani nelle nostre scuole, soprattutto tu fin dagli anni 90 ti sei occupato di questo problema, ma per esempio quando il tema era ancora abbastanza lontano, insomma non avevamo ancora il 10%... Siamo stati pionieri, c'eri anche tu in questo lavoro, siamo stati decisamente pionieri. Non avevamo il 10% di studenti non italiani nelle nostre scuole, oggi abbiamo il 10%, il tema è davvero importante, quindi ci auguriamo di poterci avvalere ancora del tuo contributo. Se posso Regi così chiudiamo questo cerchio nella circolare, che per la prima volta ha usato in Italia la parola intercultura, educazione interculturale, in questo caso il Ministero è una delle volte in cui è stato più avanti della cultura, del livello culturale medio, dice espressamente l'educazione interculturale avvalora il significato di democrazia. Direi che con questo, ecco, le scuole sono chiamate ogni giorno ad avvalorare concretamente il significato di democrazia. Mi pare un'ottima chiusura. Vi ringrazio. Grazie a te e ancora davvero molti auguri per il tuo futuro. Grazie. Grazie.